buon anno a tutti e buon 2021 è la seconda volta che vi faccio gli auguri a distanza la prima volta è stata nella pasqua 2020 e davvero speravo in pormio di potervi rifare in presenza ma purtroppo non è ancora possibile però colgo l'occasione di questi auguri per presentarvi il video che avevamo girato quest'estate con i ragazzi della nostra orchestra sinfonica del conservatorio i ragazzi dell'orchestra d'archi il video che abbiamo appunto girato quando siamo potuti tornare a fare concerti in presenza sono le quattro stagioni di vivaldi e i nostri ragazzi sono diretti da pietro mianiti l'occasione è stata unica è stato un ritorno alla vita un ritorno al suonare un ritorno al pubblico ma anche un ritorno dei nostri strumenti della collezione storica che da tantissimi anni ormai erano chiusi in queste meravigliose teche e che per fortuna hanno avuto l'occasione di poter essere suonati dai nostri ragazzi quindi l'augurio è di poter ritornare di nuovo alla vita in primavera come abbiamo fatto a luglio tutti insieme tutti in presenza e con tante nuove produzioni dei nostri ragazzi per cui davvero di cuore buon 2021 grazie a tutti 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 grazie a tutti